Un deciso no della Coldiretti Italia, la politica agricola comune, perché a pagare il conto della Brexit non può essere l'agricoltura italiana, con il rischio di mettere in difficoltà 800.000 aziende agricole italiane. Il leader della Coldiretti, Moncalvo, all'Assemblea annuale a Roma, chiede senza mezzi termini di estendere sempre più l'obbligatorietà di indicare l'etichetta di origine a tutti gli alimenti in commercio, per evitare psicosi tra i consumatori. E non mancano forti preoccupazioni per la cosiddetta guerra dei dazzi. Un prodotto su cinque è figlio di sfruttamento delle persone, figlio di sfruttamento dell'ambiente. Allora da un lato ci serve una nuova stagione di accordi internazionali, dal no al ceta a una ridiscussione degli accordi, dove al centro ci siano le regole sull'ambiente, sulla sicurezza alimentare e sui lavoratori. E poi l'etichettatura d'origine obbligatoria in tutte quelle filiere che ancora non ce l'hanno, dall'ortofrutta trasformata fino ai salumi e ai trasformati a base di carne. La guerra dei dazzi potrebbe penalizzare in futuro i nostri prodotti? I dazzi sono una risposta sbagliata ad un problema evidente, ed è il fatto che oggi sul mercato internazionale vince chi costa di meno. Ma chi costa meno molto spesso sfrutta di più, sfrutta l'ambiente e sfrutta le persone. Allora ci serve ridiscutere gli accordi internazionali mettendo al centro le regole. E le migliori regole sulla produzione e sulla difesa dell'ambiente dei lavoratori sono le regole italiane ed europee. Sono soddisfatto alla fine dei voucher? Soddisfatto che finalmente ci sia l'impegno a lavorare sui voucher. Facciamolo in fretta perché con i primi giorni di agosto inizia la vendemmia e la vendemmia da sola utilizza quasi la metà dei voucher che in agricoltura si utilizzavano fino allo stesso anno. Grazie.